Le crepe alla Nutella sono una golosa tentazione da gustare in qualsiasi occasione, durante una pausa, per la merenda o come dessert. Preparare questo dolce è davvero molto facile e il risultato sarà un vero successo. Mettiamoci all'opera! Ingredienti Mezzo litro di latte 250 g di farina 40 g di burro 2 uova Un pizzico di sale Nutella quanto basta Versa la farina già setacciata in una terrina e aggiungi il latte con il sale. Mescola il composto con una frusta. Sbatti le uova intere e uniscile al resto degli ingredienti. Mescola bene con una spatola e lascia riposare in frigo per mezz'ora. Fai scaldare una padella antiaderente e versa una dose minima del composto distribuendolo uniformemente sul fondo. Fai dorare le crepe su entrambi i lati e una volta pronte farciscile con la nutella. Consigli! Puoi decidere di cospargere le crepe con zucchero a velo o di decorarle con panna montata. Sentirai che sapore! Buon appetito e alla prossima videoricetta! Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante mi piace. Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Stai su Facebook? All'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina. E ora, cosa vuoi preparare? All'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette.